Siamo arrivati dai due denti, vanno in corpo, piano piano, un po' di raffa di... Oh oh oh! Oh oh oh! Oh oh oh! Oh 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 oh! Oh 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 oh! Oh oh oh! Oh oh oh! Oh 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 oh! Oh 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 oh! Oh 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 oh! Oh 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 oh! Oh 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 oh! Oh 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.